Ma che stiamo meglio, però che stiamo ancora con le nostre ragazze, stiamo meglio, c'ho degli attimi di scuola. E' un attimo, però lo so che voi non mi diventavate mai di giocare per me, perciò mi raccomando, pregata sempre, non stancatele mai, non bisogna tanto, non ti preghiamo. Grazie, vi voglio bene, un bacione a tutti. Ciao a tutti, ma sto mettendo meglio, però che stiamo ancora con le nostre ragazze, sto mettendo meglio, c'ho degli attimi di abbattimento. Però lo so che voi non mi diventavate mai di pregare per me, perciò mi raccomando, pregata sempre, non stancatele mai, non bisogna tanto, non ti preghiamo. Grazie. 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 Grazie.